ragazzi facciamo i complimenti all'inter dai perché quello che giusto è giusto è andato a roma e ha fatto la partita nettamente 3 a 0 non c'è stata mai storia forse c'è stata storia i primi 45 secondi e poi basta detto questo la roma un serio problema che secondo me è in panchina che è il suo allenatore io lo dico dall'inizio del campionato io mi ricordo le parole che disse se non sbaglio dopo il 6 a 1 con il bodo glint bisogna avere più rispetto della roma più rispetto per i tifosi della roma parlando degli arbitri adesso non mi ricordo se era quella partita un altro ecco è arrivato il momento di dire che forse lui che deve avere un po più di rispetto della roma e dei tifosi della roma e iniziare a far giocare una squadra a calcio e detto questo perché non è possibile ogni c'è ne ha sempre una per tutto e l'arbitro guarda linee e il quarto uomo e zagnolo non è buono e i giocatori sono scarsi cioè ragazzi dai stasera nella roma non vince uno scontro diretto con una grande che non so da quando perciò ragazzi bisogna assumersi le proprie responsabilità detto questo ragazzi innanzitutto buonasera e bentornati qua sul canale dal vostro amico inaic nella casa del pane balun ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale continuate a farlo attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti raga fatelo perché siamo in tantissimi arriviamo a 500 che manca pochissimo ci conto e mettetemi un bel like se vi è piaciuto il video alla fine di questo video ragazzi parliamo della partita la partita è iniziata ma secondo me anche bene perché ripeto la roma i primi 45 secondi sembrava vogliosa ma perché ha fatto un paio di di adesso parte la battuta ha fatto un paio di percussioni zagnolo sembrava volesse so spaccare il mondo sai com'è di solito lui esplosivo no però molto confusionario molto arruffone molto casinaro molto polemico molto tutto molto tutto dopo un paio di sfuriate non c'è stata praticamente più gara anche se poi dopo ragazzi il gol arriva da un papero ma io ragazzi io continuo a dire ma il difensore che si mette sul primo palo sul calcio d'angolo come si usava negli anni 80 non si usa più c'è un peccato mortale mettere il difensore sul primo palo perché io ho visto un gol dell'inter di perisici da calcio d'angolo dove di testa la mette sul primo palo e non c'era nessuno un altro gol mi pare anche il milan più o meno quello di romagnoli col sassuolo mette sul primo e non c'è nessuno oggi idem insomma perché poi a parte il fatto che non c'era il difensore sul primo palo poi l'hanno allisciato in quattro compreso il portiere che se la fa passare sotto alle gambe direttamente da calcio d'angolo poi mi tocca sentire io da milanista e rosico un po' mi tocca sentire cronisti giornalisti cialanoglu si è preso per mano la squadra ma dai ragazzi ma siate seri siate seri non diciamo buffonate non è un gol che si può venire in serie A dai ci sono state una serie di papere dei difensori e del portiere compreso che ha fatto sì che la palla entrasse detto questo sì cialanoglu adesso se vogliamo aprire giusto una parentesi cialanoglu cialanoglu se nessuno ha mai detto che non è un buon giocatore nulla di che per me non vale i soldi che l'inter gli ha dato gli dà per me è un giocatore che messo in una squadra che gira bene va bene e messo in una squadra che gira male va male non fa la differenza inutile dire ha preso per mano l'inter cialanoglu non ha preso per mano nessuno cialanoglu gioca bene perché l'inter sta giocando alla grande in questo periodo perciò e va bene anche lui se al posto di cialanoglu ci fosse sensi in condizione sarebbe la stessa cosa perciò non continuiamo sempre questa storia di cialanoglu detto questo va bene sbloccandosi la partita sull'1-0 diventa un po' tutto più facile poi arriva il gol di Dzeko insomma però chiudere il primo tempo ma neanche il primo dopo 28 minuti 3-0 no però no perché lì ci vuole cioè io a me mi sembra di vedere un po' che la squadra adesso giochi un pochettino contro l'allenatore secondo me anche i giocatori hanno capito che non va bene non va bene boh non li vedo non li vedo poi che giocano li vedo poi anche Mourinho in panchina impassibile non ha detto mezza parola non diceva di solito è abbastanza ma non polemico anche nei suoi giocatori cioè dare delle direttive c'è zero proprio era la partita di tutti in famiglia tutti boh non lo so non lo so non lo so sta di fatto che la Roma non è scesa in campo ha strameritato di perdere 3-0 al primo tempo la partita poi si è chiusa lì sostanzialmente dopo mezz'ora l'Inter ha una grande difesa anche se ha delle assenze però ha comunque una gran difesa un centrocampo che in questo momento è veramente da invidia e diventava difficile recuperare tre gol all'Inter ha saputo ha gestito alla grande c'è quel Brozovic ragazzi che è un qualcosa di fenomenale e nessuno dice che l'Inter non riesce a tirare fuori i soldi per Brozovic per aver dato tutti quei soldi a Cialanoglu ragazzi anche Brozovic è a gratis perché è già tuo non lo devi comprare però detto questo Perisic insomma hanno fatto tutti una grande partita diventava poi difficile la Roma la Roma non ha mai dato sia ogni tanto si vedeva qualche però poca poca roba poi c'è da dire ragazzi che le assenze hanno anche accentuato di più il problema perché comunque Ebran in attacco il difensore che è stato ammunito la partita scorsa anche lui ingenuamente era era diffidato e ha saltato questa partita e il Shah Raui all'ultimo non non si è visto vero e tu non è il vero e tu che conosciamo insomma una serie di cose la Roma non c'è la Roma non c'è ragazzi poi se vogliamo dire dove dovrebbe essere la Roma sicuramente non è non è ai livelli di quelle quattro l'anno perciò non essendo ai livelli di quelle quattro lì scusate ragazzi cosa è attivata la televisione non essendo ai livelli di quelle quattro lì e quinta adesso vediamo cosa faranno le altre domani però è quello il posto che si giocherà conference europa league non penso a questo punto oramai ha già fatto sei sconfitte ma quegli altri stanno andando troppo quelle quattro lì fanno un altro campionato le prime tre poi in maniera esagerata ma secondo me anche l'Atalanta vedremo domani poi domani ci dirà tutto cioè scusate ragazzi stasera che è l'altra partita del serato bene ragazzi il secondo tempo è incommentabile perché la Roma è scesa in campo per gestire il 3 a 0 per cercare di di non prenderne altre l'inter ha gestito il suo perché era in vantaggio la partita si è fermata lì qualche qualche lampo ancora di di zagnolo sul finale ma niente di che una partita chiusa dopo 28 minuti partita di cartello peccato perché per l'amor di dio per i tifosi dell'inter anche buono tre gol si sono visti però avrei preferito vedere una partita un po più spettacolare perché anche il milan con la roma ha fatto più o meno la stessa partita stradominando in largo in lungo però per 70 minuti è rimasta sul 2 a 0 poi l'espulsione di tuo hernandez ha riaperto un po il tutto la roma si è fatta avanti si è riaperta poi è finita 2 a 1 però stasera non c'è stata mai partita l'inter è molto molto forte cinica fa gol quando deve fare e le chiude perciò diamo merito a chi vince ogni tanto l'inter ha fatto una gran partita e bene 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 il campionato è sempre più avvincente mi sa che è stato più semplice per l'inter stasera che per noi oggi poveri gioco la solernitana detto questo ragazzi niente se vi è piaciuto il video mettete vi chiedo un bel like supportatelo condividetelo e mi raccomando come dico sempre io ragazzi ciao ciao